Musica Buongiorno, buongiorno e bentornati al nuovo appuntamento con l'informazione di TV 2000. Questi i nostri titoli. 8 marzo, scusate, al Quirinale la celebrazione con il capo dello Stato Mattarella. La sciopero dei servizi pubblici contro la violenza sulle donne, con disagi per tutti. La morte di Isaia Hastrup, i giudici inglesi avevano ordinato il distacco dei supporti vitali. Il piccolo ha continuato a respirare da solo, ma ieri non ce l'ha più fatta. Il Papa e i migranti alle parole, dice alla Commissione Internazionale Cattolica, oggi in udienza, seguono impegni concreti nel segno di una responsabilità globale e condivisa. Ma in apertura di questa giornata particolare, vogliamo ricordare una donna straordinaria, Teresa Saglio, storica volontaria di Medici con l'Africa QAM, spentasi l'altro giorno all'età di 91 anni, di cui 48 immaginate vissuti in Africa. Una vita esemplare la sua. I funerali oggi, proprio nell'amata Tanzania, Marco Burini. Quando ero arrivata? E' arrivata che avevi deciso di andare in Africa, mentre stavi pulendo il bagno. E ti hanno detto di andare a Londra. Naturalmente ho parlato con il mio parroco, perché quando ho deciso di andare in Africa, non sapevo da che parte rivolgermi. E ci ha fatto? Allora mi ha detto anche però, devo sapere un po' l'inglese. Allora mi sono licenziata. Ma cosa dico licenziata? E' fatto uno sciopero per avere la normativa normale, perché non ce l'avevamo. Eravamo pagati bene, eravamo in una piccola categoria. E allora quando hanno superato i metallo meccanici, si hanno aggregati. E abbiamo promosso questo. Eravamo in mente della storia cattolica. Comunque pensavamo di rimanere fuori solo noi. Invece quel giorno sono entrati gli operai in fabbrica, poi sono usciti tutti davanti ai padroni. Questo era una cosa che non capitava, perché davanti e indietro negli anni dopo il 64. A quel tempo superavano solo i comunisti. E perché proprio l'Africa e non un'altra? L'Africa forse... Perché te la senti? A quel tempo si parlava più di Africa che di India e di America del Sud, certo? Conoscevo più che altro. Avevo sempre sentito parlare di Africa. E stavani al Quirinale la celebrazione della giornata internazionale della donna. Quest'anno dedicata al tema donne e Costituzione. Il presidente Sergio Mattarella ha reso omaggio all'impegno delle donne, protagonista del cammino verso la progressiva conquista della parità dei diritti. Il capo dello Stato ha sottolineato il contributo straordinario portato dalle donne nel nostro paese. Tutta al femminile, come di consueto, la guardia d'onore del Palazzo del Quirinale. E oggi giornata difficile nel nostro paese per trasporti, sanità e scuola, per lo sciopero dei servizi pubblici proclamati dai sindacati di base, proprio per riflettere sulle violenze contro le donne e la mancanza di pari opportunità. Numerosi disagi vissuti dai cittadini, sin dalla prima mattinata, anche per le tante manifestazioni in corso in più città italiane. Ed ora ci spostiamo all'estero. Le misure restrittive di Trump su acciaio e alluminio irritano Pechino. La Cina minaccia Washington sui dazi e guerra commerciale. Siamo pronti a rispondere, dicono. Ci aggiorna Marco Bergamaschi. Pechino è pronto ad una guerra commerciale se la Casa Bianca avvalerà, come annunciato, i dazi su alcune merci. L'avvertimento senza mezzi termini dalla Cina agli Stati Uniti arriva dal ministro degli esteri, Wang Yi. Scegliere la guerra commerciale, spiega Yi, è la ricetta sbagliata. Alla fine gli Stati Uniti si faranno male da soli. La Cina, aggiunge, assumerà certamente le risposte a proteate necessarie. Speriamo, conclude il ministro degli esteri, lasciando aperto uno spiraglio al confronto, che Cina e Stati Uniti abbiano un dialogo calmo e costruttivo su basi paritari e trovino una soluzione che non scontenti nessuno. Ieri all'Organizzazione Mondiale del Commercio la Cina aveva capeggiato un gruppo di 18 paesi per colpire le tariffe statunitensi dichiarando che l'aumento rappresenta una minaccia al sistema commerciale globale. Nonostante i moniti cinesi e la preoccupazione espressa dall'Unione Europea, Donald Trump è pronto a firmare il piano sui dazi, forse venerdì liberatosi dell'ultimo vero ostacolo, il consigliere economico Gary Cohn, che si è dimesso. Il presidente americano si appresterebbe dunque a varare la stretta sulle importazioni di acciaio e alluminio con una tariffa del 25% sul primo e del 10% sul secondo, anche se secondo indiscrezioni che giungono dalla Casa Bianca ci potrebbe essere una deroga di 30 giorni per Messico e Canada che sarebbe legata a una rinegoziazione del NAFTA, l'accordo di libero scambio con i due paesi. La cronaca, scacco dei carabinieri alla mafia della Tiburtina, 39 arresti a Roma in un blitz antidroga contro l'organizzazione che gestiva il monopolio dello spazio nell'area est della capitale. Luigi Ferraiola. Vedette per controllare il territorio, pattugli in auto per perlustrare le piazze di spaccio diffuse da Tivoli a Guidonia e nella zona Tiburtina. Sembra un'organizzazione mafiosa, è in realtà una rete di spacciatori che si è imposta nella zona S di Roma negli ultimi anni attraverso duri pestaggi e l'uso delle armi contro i singoli pusher. Al comando un unico gruppo familiare legato da vincoli di sangue, il segreto della coesione. Un ruolo importante lo avevano anche le donne, ben sei quelle arrestate, che collaboravano con i mariti nella gestione di un rudimentale clan in formazione. Il gruppo era riuscito a imporre anche una forte omertà tra i piccoli collaboratori, inaspettata per la capitale grazie alla violenza efferata con cui si erano fatti riconoscere. 39 gli arrestati dai carabinieri, In tre giorni le forze dell'ordine hanno fermato 61 spacciatori a Roma in tre distinti operazioni che vanno dalla Garbatella ai locali di Usso di Via Veneto, ai Parioli e al Tiburtino. E' sempre nella capitale, ma non solo. Dopo il maltempo i cittadini motorizzati fanno lo slalom in strada tra buche e grosse fenditure tra l'asfalto. Beatrice Bossi ci spiega come farsi rimborsare in caso malaugurato l'incidente. Su internet ormai sono le protagoniste e se fosse davvero solo ironia ci sarebbe da ridere. Invece è tutto vero. Quest'uomo è stato fotografato a Roma mentre aspetta con la canna da pesca in mano che qualcosa abbocchi da una buca sulla strada piena d'acqua. I romani ormai ci scherzano su, anche se l'emergenza è seria. La sindaca Virginia Raggi, proprio in queste ore, ha inviato task force in ogni municipio per arginare i danni e gli incidenti. E come ci dicono al telefono, negli uffici sono stati predisposti moduli ad hoc per i risarcimenti. L'Urp, ufficio di relazioni con il pubblico, ha un apposito modulo, che è un modulo di richiesta risarcimento danni. E c'è la pagina dove spiegare che cosa è accaduto e perché, quindi la causa, in questo caso è stato il manto stradale danneggiato. E poi c'è la particolare voce signora dove le chiede di inserire la sua richiesta di risarcimento danni. Emergenza capitale che è diventata ormai questione nazionale. Queste immagini sono state girate pochi giorni fa nel tratto tra Parma e Reggio Emilia dell'autostrada A1. Sono decine gli automobilisti fermi con le ruote bucate in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Ma come ci si può difendere? Si deve procedere per le vie legali. Armatevi dunque di pazienza e buona volontà, assumete un avvocato e incrociate le dita, perché ottenere un risarcimento non è poi così facile. Innanzitutto per potersi configurare l'ipotesi di un danno risarcibile parliamo in questo caso, ed è l'unico caso che è risarcibile, di un insidia o trabocchetto. Facciamo l'esempio della giornata piovosa dove c'è anche una nebbia abbastanza intensa. La buca non è assolutamente visibile, poiché è coperta dal manto di acqua. Un altro esempio storico potrebbe essere di notte, quando si verifica un incidente di notte, perché è chiaro che la visibilità è ridotta. Paradossalmente quindi una enorme buca, in pieno giorno, molto profonda, dove è chiaramente mantenuta male la strada e quindi la colpa è senza dubbio del comune, nel caso delle città, comunque non si profila l'ipotesi dell'insidia? No, assolutamente no. E stamani anche il momento dell'ultimo addio a Davide Astori, dopo la maxiprocessione alla Camera Ardente di calciatori, sportivi, tifosi, oltre 12.000 alle 10.30 nella Basilica di Santa Croce a Firenze, l'estremo saluto al 31enne Capitano Viola, morto domenica nel sonno, ad accogliere la barra di Astori, i pulcini della Fiorentina, disposti uno accanto all'altro. Un lunghissimo applauso ha accompagnato l'arrivo del feretro, con bandiere viola e delegazioni di tutte le squadre in cui ha militato in un solo. Il rito funebre, celebrato dall'arcivesco Cardinal Betori, si è svolto a porte chiuse, in un momento difficile per lo sport, e non solo, ha detto Betori, Astori incarnava valori positivi. Il piccolo Isaia, 12 mesi non ce l'ha fatta, un giudice aveva ordinato di staccare la spina, era ricoverato al King's College Hospital in Gran Bretagna, la sua patologia era legata a problemi medici durante il parto che hanno messo in pericolo anche la vita di sua madre. Il servizio è di Leonardo Possati. Isaia Astrup, il bambino inglese di 11 mesi affetto dalla nascita, da quello che i medici chiamano un catastrofico danno cerebrale, causato da una mancanza d'ossigeno al momento del parto. Il piccolo, durante questi mesi, aveva mantenuto un barlume di coscienza, ma per i medici non c'erano speranze di miglioramento. Di parere diverso i genitori, che proprio per salvare il figlio, si sono appellati ai giudici per evitare che i medici interrompessero il trattamento nei confronti di Isaia. Da qui, come già avvenuto nei casi di Charlie Gard, morto il 28 luglio scorso, dopo una dura battaglia legale, e di Alfie ricoverato a Liverpool, in attesa che i medici stacchino la spina, come deciso dal tribunale, è ancora una sentenza a decretare la fine di una vita umana. L'unica differenza che emerge tra questi tre casi è che mentre per Charlie Gard si potevano tentare cure alternative, per Alfie e Isaia non esistono terapie, oltre a quelle tentate sinora. A poco sono serviti i ricorsi dei genitori contro la sentenza del Tribunale di Londra. Nemmeno la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha dato loro ragione. Proprio ieri, infatti, è stato dichiarato inammissibile l'ultimo ricorso, quello che chiedeva di continuare il trattamento salvavite e di ribaltare così il verdetto dell'Alta Corte Britannica, secondo il quale il supporto vitale per il piccolo andava interrotto. Nel caso di Isaia, così come per Alfie, i giudici definiscono la ventilazione e la nutrizione assistite una forma di accanimento. Continuare a vivere, dicono i giudici, non è nel miglior interesse del bambino. Ultima chiamata per presentare la documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie necessarie per l'iscrizione all'anno scolastico 2017-2018, ma ci sono proroghe per le regioni più virtuose. Francesco Durante. Mancano ormai solo due giorni ai genitori per dimostrare di aver regolarizzato i propri figli con le vaccinazioni obbligatorie ed evitare così che vengano esclusi dal nido dalla scuola materna. Scadrà infatti sabato prossimo, 10 marzo, il termine per presentare agli istituti la documentazione sull'avvenuta immunizzazione. Il Ministero dell'Istruzione e quello della Salute hanno tuttavia concesso una mini-proroga di 20 giorni agli abitanti delle regioni che si sono dotate di un'anagrafe vaccinale Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. Regioni che hanno fatto pervenire direttamente dalle asle alle scuole i dati sulle vaccinazioni, sollevando i genitori dall'obbligo di presentare libretti vaccinali, prenotazioni eseguite o eventuali certificati medici di esonero. Le asle di queste regioni entro il 10 marzo comunicheranno agli istituti chi ha effettuato i vaccini e chi non è in regola ed entro il 20 marzo i dirigenti scolastici inviteranno i genitori dei minori non vaccinati a depositare entro 10 giorni la documentazione sulla vaccinazione effettuata oppure quella da cui risulta che la richiesta è stata comunque presentata all'asle o ancora l'esonero per gli specifici casi previsti. Il termine ultimo per queste regioni virtuose è perciò prorogato al 30 marzo. Per tutte le altre rimane il termine del 10 marzo trascorso il quale i minori non vaccinati saranno esclusi da nido e scuole materne. Secondo alcuni dati ancora non ufficiali della società italiana di igiene la campagna per le vaccinazioni ha avuto un riscontro altamente positivo su 5 regioni campione la copertura per l'esavalente avrebbe superato quota 95% mentre per la quadrivalente si sarebbe raggiunta la soglia del 93% un miglioramento di 6 punti percentuale malgrado il boicottaggio dei no-vax. Il Papa torna sul tema dei migranti e chiede un dialogo aperto con i governi invitati a rispettare i patti per l'accoglienza dei profughi insieme dobbiamo incoraggiare gli stati a concordare risposte più adeguate ed efficaci alle sfide poste dai fenomeni migratori e possiamo farlo ha detto sulla base di principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa così ai membri dell'International Catholic Migration Commission in occasione del Consiglio Prenario che si conclude oggi a Roma. È tutto per oggi grazie per averci seguito rimanete ancora con noi per seguire il nostro approfondimento culturale terza pagina prossimo appuntamento con l'informazione alle 18.30 buona giornata grazie a tutti i nostri spettatori